Messina il megafono sosterrà il candidato del centro-sinistra, quindi sosterrà il candidato del Partito Democratico, anche se devo dire che quelle primarie sono state delle primarie del PD e non delle primarie di coalizione, però sicuramente non siamo dei pazzi poi a spaccare il Partito Democratico. Non lo spaccheremo, no.